Lo ha annunciato già nei giorni scorsi quando Varando la manovra salva famiglia che prevede la sospensione dei tributi comunali aveva assicurato che le azioni messe in campo dal comune di Ferentino non si sarebbero fermate lì. Ecco dunque un'altra e più poderosa misura che il sindaco Antonio Pompeo e la giunta di Ferentino hanno adottato per rispondere in modo concreto ed efficace alla situazione di emergenza causata dalla diffusione del CODIV-19. Un primo passo ma notevole per la gestione di un'emergenza senza precedenti che necessita di iniziative mirate a sostenere la collettività e il tessuto economico imprenditoriale cittadino. Oggi abbiamo approvato in giunta un altro emendamento molto molto importante un emendamento attraverso il quale andiamo a spostare tutte le risorse che avevamo appostato sui capitoli relativi alle manifestazioni culturali, sportive e sociali della nostra città e come dicevo l'abbiamo spostate sui capitoli relativi all'emergenza Covid. Queste risorse poi insieme agli uffici avranno una destinazione nei confronti delle famiglie, delle persone e anche delle aziende della nostra città con modalità che decideremo nei prossimi giorni. Con l'avvicinarsi delle festività pasquali il sindaco Antonio Pompeo inoltre raccomanda a tutti di restare a casa. Sicuramente sì, dobbiamo fare questo sforzo, il mio invito soprattutto ai più giovani. Tutto quello che ci è stato tolto, se continueremo così sono sicuro che lo avremo indietro e anzi anche con più entusiasmo e con più voglia e forza di vivere.